E' la volta di Nicola Bombonati. Bene, buongiorno a tutti. Non so se dire attuale ex Presidente del Veneto, con orgoglio, perché è una grandissima regione, e non ho quattro figli, quindi non è una prerogativa veneta, è solo di Luca. Io voglio partire da un intervento che ieri mi ha colpito veramente profondamente, dei due associati, dei due delegati, mi pare di Pisa-Lucca, se non ricordo male, perché sono stati due belli interventi di due giovani. E allora mi hanno colpito per due motivi fondamentali. Il primo, faccio una battuta perché spesso mi hanno detto che tu Nicola rappresenti il nuovo che avanza, il giovane, però in realtà vedendo loro mi sono sentito più un usato garantito che un giovane, perché veramente c'è un salto già generazionale tra quello che hanno detto e quello che a volte diciamo noi. La parte giovane è importante perché diciamo che hai l'aspettativa di un lavoro a lunga scadenza. Io stesso che ho 45 anni mi aspetto di lavorare, visto che siamo in Italia, almeno 25-30 anni. Luca dice forse anche 35, speriamo di arrivarci perché, e comunque lavoreremo sicuramente fino alla fine. E quindi mi sono chiesto ieri, proprio dopo il loro intervento, ma ecco, queste persone qua, e me stesso che devo lavorare per così tanto tempo, che cosa si aspettano da FIAIP? Cosa si aspettano da questa associazione e soprattutto dal prossimo quadriennio, visto che c'è questo comunque rinnovamento in corso? E lo hanno spiegato bene loro ieri, secondo me. Loro si aspettano, e quindi noi ci aspettiamo, che si parli molto di lavoro, perché la FIAIP è una bellissima associazione sindacale, però è anche veramente la casa di noi agenti immobiliari. E noi agenti immobiliari lavoriamo tutti i giorni sul campo. Quindi abbiamo bisogno di risposte, di sicurezze, soprattutto in questo momento qua, storico, che come mai ci ha visto veramente trasformare e cambiare la nostra attività. Abbiamo tutti bisogno di aiuto, e questa è la nostra casa FIAIP, ce lo deve dare. Mi collego a questo perché di lavoro, di crescita professionale, della nostra attività, si parla tanto nel programma che la squadra della quale faccio parte con orgoglio ha elaborato. Quindi senza trascurare la parte sindacale dell'associazione, parla molto di qualcosa di concreto, di pratico, che possiamo poi attuare nelle nostre agenzie dal giorno dopo. Si parla di crescita professionale, di migliorarci, si parla di questa modalità che poi ci spiegherà benissimo il nostro candidato presidente Gian Battista Baccarini, modalità di lavoro che deve essere il più possibile comune e che ci possa permettere di collaborare tra di noi, di condividere. Perché finalmente, in questa crisi, che non è ancora passata, come ci vogliono forse far credere, la condivisione è un qualcosa che è emerso forte, di cui forse non ce n'era bisogno quando le cose andavano bene. E allora, in questo senso, la crisi ci aiuta anche a migliorare a livello umano. Quindi, il fatto che il centro del programma ci sia il nostro lavoro, la nostra professione, ha portato molto entusiasmo. Quando l'abbiamo proprio cominciato a far condividere agli associati attraverso il lavoro con le regioni, e mano a mano che si formava, il fatto che si parlasse di lavoro, di cose pratiche, a me è veramente piaciuto. È stata una forte motivazione per essere qua oggi, a parlarne. E poi è un programma che ci parla di prospettiva futura, ci dà ottimismo, ci dà positività, perché tra gli obiettivi, quello importante, che è uno di quelli importanti, è di cercare di migliorare veramente, finalmente, la percezione che noi abbiamo nei confronti del consumatore finale, che non nascondiamoci di noi, non ha mai avuto forse una grande percezione. Questo è uno degli obiettivi che ci poniamo, quindi ha una visione positiva e veramente ottimistica del nostro lavoro. Poi, diciamo che, grazie anche all'innovazione tecnologica e agli strumenti, uno degli elementi importanti sarà la gestione dei dati. I dati, che per noi, quelli più importanti, sono i prezzi, i valori immobiliari, che solo noi conosciamo, ed è un tesoro che dobbiamo ottenere. Per recuperarli, ci sarà un nuovo software dell'osservatorio immobiliare, ci sarà una sezione dedicata, finalmente, ai comparabili, comparabili che ci permetteranno di essere, sì, fonte istituzionale, quindi un punto di riferimento per la politica, per le istituzioni, per gli osservatori immobiliari, per i congressi, però soprattutto per noi, per la parte operativa, perché ci permetteranno di avere delle stime corrette per riuscire poi a vendere le case, perché poi le case noi le dobbiamo vendere. E poi, ecco, l'altra forte motivazione che mi porta ad essere qua è la condivisione. Io, all'interno della squadra, ho trovato veramente tanto rispetto, competenze, persone che hanno lavorato bene insieme, che appunto si rispettano. E questo è un tema molto importante, il fattore umano che spesso trascuriamo, perché poi il programma va portato avanti dalle persone, le persone devono lavorare insieme, devono lavorare probabilmente tanto come non mai, perché ce lo siamo detti, ci lascia un presidente veramente, molto bravo, veramente esuberante, e la squadra è importante, quindi i valori umani, le persone devono starci bene a lavorare insieme. E di questo ne sono convinto, perché sono quelle modalità comuni che ho trovato tra le persone che formano la squadra. E poi vi lascio con una frase che un'associata del Veneto, ecco, che rappresenta un po' questo spirito di condivisione e di squadra, voglio dire che mi ha donato, condiviso con me, una manifestazione recente che abbiamo organizzato nel Veneto. E la frase dice proprio questo, che da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Grazie. 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 Grazie.